Ennessimo sequestro di droga e cellulari nel carcere di Avellino. Questa volta però ad essere arrestato è un agente della polizia penitenziaria. Il responsabile era in procinto di consegnare la merce illegale quando è stato beccato grazie allo strano comportamento dei detenuti. Durante le perquisizioni i colleghi hanno constatato che era in possesso di oltre 4 kg di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina e droga liquida. L'agente inoltre aveva con sé anche schede SIM per cellulari, 22 smartphone, 22 caricabatterie, 3 router e una collana d'oro. Ora e a domiciliari l'episodio ha sollevato molta indignazione. Tant'è che il presidente dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Giuseppe Moretti e il segretario regionale per la campagna Ciro Auricchio hanno affermato che questi poliziotti vanno intercettati e allontanati perché non degni di indossare l'uniforme. Più volte hanno sottolineato che all'interno delle carceri si combatte una guerra quotidiana e che proprio nella casa circondariale di Avellino mancano 60 agenti e chi affatica si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna.